Un saluto a tutti dalla relazione Ciao a tutti dalla relazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimana d'approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiocciolarosinitv.it. Ma iniziamo subito con la prima notizia, perché a seguito dei numerosi casi di abbandono, indisciplinato di rifiuti avvenuti soprattutto nell'ultimo periodo lungo le strade del territorio del comune di Vallefoglia, il sindaco Palmiro Cchielli ha richiamato ancora una volta l'osservanza rigorosa delle disposizioni riguardanti il decoro urbano, altrimenti aumentano le possibilità di un'ammenda che può arrivare fino a 500 euro. Sentiamo. L'appello è a mantenere le regole, rispettare le ordinanze, avere buona educazione, evitare di buttare i rifiuti fuori dai luoghi deputati. C'è un centro raccolta tutto gratis a Montecchio per tutta quest'area di 50.000 abitanti. Ci sono bidoni per l'immondizia, se non sono sufficienti si aumentano, però bisogna lavorare molto sull'educazione. In più bisogna capire che questa è una fase, non è quella del boom economico. Durante il boom economico erano piene le attività private, super macchinoni e non c'era nulla in disordine. Oggi quello che è pubblico è quasi tutto, non dico la perfezione, ma proprio quasi quello che è del comune. Quello che è privato, molti sono falliti, sono nelle mani dei tribunali, dei curatori fallimentari e è difficile anche per i tribunali e i curatori fallimentari collocare nel mercato quando non c'è una forte richiesta, anche per prezzi molto convenienti, spesso e volentieri. Quindi c'è un po' di difficoltà. Devo dire per la verità che ultimamente qui c'è molto movimento. Ci sono molte aziende che raddoppiano, potenziano le loro attività. Ci sono investitori che recuperano anche i capannoni dismessi. Vedi dove c'è stato l'Aspar, l'incendio, che hanno già preso un progetto per fare il capannone nuovo. C'è un bel movimento dal punto di vista economico e ci fa sperare bene anche nel ritornare alla piena occupazione, perché soprattutto una città nuova, una città di giovani, una città dove nascono tanti bambini è una città che punta alla piena occupazione. Occupazione, lavoro, benessere, crescita e decoro urbano. Su questo noi insisteremo molto. Prima di tutto c'è necessità di educare le persone e poi anche reprimerle, fare anche i verbali, a chi fa le cose che non deve fare. Stanno procedendo i lavori del Comune. Entro l'anno vedremo l'insieme della struttura. Non dico quasi finita, ma a primavera prossima avremo quasi ultimato il Comune nuovo. Dovremmo avere una risposta a giorni per far partire i lavori dell'appalto del nuovo teatro, perché le prime ditte hanno rinunciato, perché avevano altri lavori in giro per le Marche e per l'Italia. E poi stiamo mettendo la data per l'inaugurazione del teatro Cinema Teatro Branca Sant'Angelo in Lissola. Abbiamo realizzato nuovi parcheggi a fianco alla Casa della Salute dove nasce il nuovo Comune. È tutto un cantiere aperto, Valle Foglia, pubblico e privato. Quindi un bel binomio, è una città in forte crescita. Abbiamo organizzato anche quest'anno le vacanze per i bambini. Tante persone parteciperanno e c'è un bel tradunione comunque tra pubblico e privato, perché l'obiettivo è comune, dare benessere al lavoro e futuro a questa città, che è una città in forte crescita, che guarda al futuro con fiducia e con speranza. E a proposito proprio di rifiuti e di decor urbano, un cittadino di Valle Foglia ci ha inviato un video segnalandoci come nella zona adiacente alle Museo della Mezzadria, situato nella località di Ponte Vecchio, si presentano alcune situazioni di pieno abbandono di rifiuti e di degrado, non consone ad una località storica come quella in cui sorge il museo. Il cittadino in questione ha voluto ribadire con questa segnalazione come in un luogo che è patrimonio storico e culturale della civiltà ci debba essere un maggiore controllo ed una maggiore cura. E dopo bene sette mesi di chiusura, questa è stata la settimana della riapertura delle palestre. Tra le mille difficoltà attraversate in questi tanti mesi, in virtù anche dei pochi aiuti economici ricevuti, abbiamo parlato con alcuni gestori che ci hanno espresso il loro pensiero dopo questa bella notizia che coincide con il ritorno al lavoro. È stato molto bello, sia da parte nostra che da parte di chi si è venuta ad allenare. Eravamo tutti super uforici, non vedevamo l'ora di poter ricominciare ad allenarci tutti insieme qua. E quindi questi primi due giorni è abbastanza positiva la risposta di tutti quanti, insomma. Avevamo voglia di ripartire. I mesi dove invece siete stati chiusi, quelli più duri? Quelli sì, un bel disastro perché comunque nonostante stai chiuso e non lavori, per diversi mesi non sono nemmeno arrivati gli aiuti, i famosi bonus che arrivavano, almeno l'anno scorso erano arrivati e quest'anno siamo stati totalmente abbandonati. Quindi insomma i primi mesi di quest'anno sono stati veramente tosti, veramente pesanti. Come sta approcciando un po' la clientela? Piano piano sta ritornando, è anche il periodo dove un po' le palestre si svuotano, entriamo nei mesi giugno, luglio, agosto? Esatto, infatti come l'anno scorso ci hanno fatto aprire il 24 maggio, l'anno scorso 25, quindi siamo lì. Periodo un po' sfigato perché comunque quando arriva il caldo e l'estate si avvicina, chiaramente c'è sempre meno, chiaramente molti preferiscono andare al mare in estate, quindi sì. Al momento sono tornati quasi tutti, per fortuna, tocca vedere effettivamente se dopo l'estate ci sarà di nuovo lo stesso numero di prima, perché purtroppo regolarsi con i numeri estivi non è che si lavora poi tantissimo, quindi è un po' ancora un'incognita. Un'ultimissima cosa, la particolarità più pesante in questo momento è l'utilizzo degli spogliatoi praticamente al minimo, il capitolo delle doce anche per chi magari lavora, viene in pausa pranzo, gli risulta difficile. Infatti tutti quelli che venivano in pausa pranzo al momento non sono tornati, qualcuno ha deciso di tornare la sera, magari dopo le sei, quando stacca all'orario di chiusura, cioè prima dell'orario di chiusura, in modo che va direttamente a casa a fare la doccia, ma quelli della pausa pranzo giustamente non possono. Allora, intanto è stato bello poter tornare nel posto di lavoro, rivedere tutti i vecchi clienti che sono arrivati, soprattutto gli abitudinari, quelli di sempre, sono arrivati subito già al primo giorno. E poi, niente, è stato bello poter tornare finalmente a lavorare serenamente, è bene, è tranquillamente. Questi ensi sono stati particolarmente duri, però per fortuna devo dire che comunque noi lavoratori siamo stati abbastanza aiutati dai vari decreti dei sostegni. La palestra come tale un po' meno, quindi un po' meno di aiuti ai proprietari più che ai lavoratori. È stata dura perché comunque, come ti dicevo, noi teniamo, cioè il mio lavoro, io amo il mio lavoro, quindi preferirei prendere dei soldi lavorando piuttosto che stare a casa, questo. Però qui noi sanno tutti che noi rispettiamo tutte le normative, abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza per disinfettare e nessuno ci ha detto che, insomma, non veniva per paura ancora del virus o del Covid, però abbiamo avuto comunque meno persone di quanto ci aspettassimo di ritrovare. E nella mattinata di domenica, nella zona industriale di Talacchio e più precisamente nell'area dell'ex mensa aziendale, si è tenuto un incontro pubblico organizzato dall'associazione Diversamente in merito al tema No al biodigestore a Vallefoglia. Il presidente dell'associazione Diversamente, Andrea Torcoletti, ha spiegato ai nostri microfoni il motivo di questo incontro. Abbiamo pensato dopo tutti questi mesi di incontri online, di creare le condizioni, visto che oggi si può, per un incontro in presenza. Abbiamo scelto di farlo in questa area perché sarà l'area prevista, io mi auguro solo prevista per la realizzazione del digestore anaerobico, in modo tale che la gente possa rendersi conto di quelle che sono le criticità di un progetto così impattante, in termini di occupazione di suolo, le criticità derivanti dal cumulo con la centrale biomassa che già esiste qua, il fatto che non sia un'area dissestata e non ci siano neanche discariche limitrofe, questo per far sì che la gente veda con i propri occhi, li condurremo anche lungo il percorso che finisce sul fiume Foglia, perché anche il fiume Foglia è un'ulteriore criticità vista la vicinanza e abbiamo pensato che così la gente possa rendersi conto in maniera inequivocabile di che cosa noi stiamo parlando e di che cosa abbiamo parlato in tutti questi mesi. Come sono evolute un po' le cose in queste ultime settimane, anche perché c'è sempre più silenzio in questo argomento? Noi abbiamo cercato sin dall'inizio di informare, rendere le persone consapevoli su che cosa significa un digestore da 105.000 tonnellate, che cosa significa avere qualcosa come 14.000 camion che transiteranno in quest'area, che cosa significa avere emissioni in atmosfera di ammoniaca, di acido solfidrico, ma abbiamo sempre incontrato questo muro di gomma. Abbiamo anche organizzato degli incontri online con chi ci rappresenta nelle istituzioni, dobbiamo nostro malgrado sottolineare che il sindaco e il suo gruppo non ci ha ancora risposto, noi chiederemo e lo faremo anche oggi che venga anticipatamente dichiarata la posizione dell'amministrazione di Vallefoglia che porteranno poi all'interno della conferenza dei servizi nel procedimento di valutazione di impatto ambientale. È un momento assolutamente importante e non indipendente dalla volontà del Comune di Vallefoglia. Il Comune di Vallefoglia, così come hanno fatto altri comuni interessati da progetti simili, ha il dovere di informare i cittadini su quali saranno le posizioni che porterà all'interno della conferenza, anche perché questo avrà un impatto nei prossimi anni sulla qualità della vita di tutti noi, del territorio e della salute dei cittadini. Ultimissima cosa, cittadini protagonisti, avete raccolto più di 5.000 firme a testimonianza di come sia o mai un parere comune. Sì, abbiamo raccolto più di 5.000 firme, abbiamo semplicemente informato e la gente ci ha seguito sostenendo la nostra azione. Anche questa mattina la gente è qua numerosa per dimostrare che comunque è preoccupata per questo progetto. Questo progetto è stato semplicemente spiegato dalla proponente. Noi vogliamo che chi ci rappresenta nelle istituzioni, ai vari livelli, venga a discutere. Oggi è possibile, grazie alla riapertura che oggi ha reso la pandemia meno impattante. Vogliamo avere la possibilità di incontrarci, vogliamo avere la possibilità di essere informati e che vengano manifestate le posizioni in maniera chiara e inequivocabile, perché questo deve fare chi rappresenta i cittadini all'interno delle istituzioni. E nel Consiglio Comunale di Montelabate, che si è tenuto lunedì 24 maggio, è stata votata all'unanimità alla proposta per la salvaguardia degli insetti impollinatori. L'iniziativa, che è stata portata in aggiunta dalle neoassessore all'ambiente Pierluigi Ferraro e la mozione, fanno riferimento alle progetto Faceglia, che consiste in un'azione di diffusione dell'erbaccia annuale Faceglia, ovvero una pianta ad alto potenziale melifero. Come ha chiarito poi l'assessore Ferraro, l'idea affronta il tema della salvaguardia e della biodiversità di cui gli insetti impollinatori rappresentano l'anello fondamentale, visto che è dalle api domestiche e selvatiche che dipende l'impollinazione di oltre il 70% delle piante con fiore e i tre quarti circa delle colture importanti per l'alimentazione umana. E a Vallefogli invece, proprio in questi giorni, è stata realizzata una nuova segnaletica orizzontale in zona via Opiola Torre a Montecchio. I lavori sono eseguiti in economia dalle personale dipendente comunale e fanno parte delle progetto inerenti ai lavori di realizzazione dei nuovi parcheggi a fianco alla Casa della Salute, che contribuiranno ad apportare una migliore viabilità a quanti si troveranno a transitare da quelle parti. Le zone interessate dalla nuova segnaletica sono invece quelle di via Guidi, i parcheggi antistanti alla scuola primaria Giovanni Paolo II, i parcheggi all'ingresso delle campo sportivo di calcio Spadoni e il centro commerciale di via Piola Torre. Oltre ad assicurare una migliore visibilità agli automobilisti, la nuova segnaletica agevolerà la circolazione stradale e garantirà anche maggiore sicurezza ai pedoni. E lo scorso fine settimana è stato presentato con una conferenza stampa presso la sede dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscoli il progetto Merachi, un progetto di cinque associazioni giovanili del territorio che si sono classificate al primo posto di un bando regionale e che ora finanzierà i progetti di valorizzazione del territorio di vario genere. Ascoltiamo le parole dei protagonisti della conferenza stampa. Sono dei finanziamenti importanti, circa 50 mila euro e noi abbiamo messo una piccola parte, noi il Comune di Pesero, coinvolti anche i comuni di Gabice e Gradara, altri comuni e soprattutto questi cinque gruppi giovanili che diventano sempre più protagonisti del loro futuro sui temi dell'educazione civica, sui temi dell'ambiente, sui temi della partecipazione democratica, del rispetto delle regole, della Costituzione, della cittadinanza europea, su tanti temi anche della riqualificazione urbana che sono veramente importanti per tutti questi comuni per questa vallata, i temi del protagonismo dei parchi, delle piazze, dei luoghi in cui i giovani possono essere loro i protagonisti del futuro di questo territorio. Meracchi è un progetto importante che come Comune di Vallefoglia abbiamo sostenuto insieme a diverse associazioni del nostro territorio, ha avuto un contributo molto importante dalla dalla regione Marche perché si è attestato nella prima posizione dei circa 40 progetti che sono stati presentati a livello regionale. Meracchi propone un ampio ventaglio di attività ma c'è un filo rosso che le tiene insieme, cioè il fatto di sentirsi comunità, di riscoprire anche una dimensione della socialità che è venuta a mancare in questo anno di restrizioni, di distanziamento sociali e il rispetto di protocolli di sicurezza che hanno fortemente limitato la possibilità di incontro. Il nostro ruolo all'interno di questo progetto tratta uno dei percorsi di Meracchi che è ambiente e territorio e noi abbiamo sviluppato in sostanza una strategia di progettualità, associazionismo, condivisione e collettività che praticamente si sviluppa in tre punti fucali che è la parte di mappatura del territorio. Passata la fase di mappatura ci sarà una fase di progettazione e di ricerca appunto su quali sono i temi progettuali da portare avanti e infine appunto si andrà a fare dopo questo processo di progettazione con i ragazzi si andrà appunto attivare sul luogo direttamente quello che è stato studiato in termini progettuali e quindi i ragazzi poi pianteranno piante, creeranno questi sistemi di arredi urbani. Per ora siamo però in fase progettuale quindi ancora da definire questi punti che poi verranno appunto sviscerati nel mese di maggio e in giugno-luglio, agosto un po' meno e settembre le ultime battute verranno appunto realizzate. E ora concludiamo parlando di sport. Una grande megabox Vallefoglia si è portata a casa a gara 1 della finale playoff vincendo in casa di Pinnerolo mercoledì sera per 3-7 a 1. Una prova di maturità enorme in un campo complicato per la squadra di Cozzo e Fabio Bonafede che fa così un passi importante nella serie finale per la promozione in Serie A1. La megabox ha vinto con autorevolezza uscendo dalla distanza nonostante la maratona di qualche giorno prima contro la Green Warriors a suolo. Pinnerolo però non ha ammollato fino alla fine della partita, il che preannuncia una gara 2 tiratissima alle pala Dionisi di Vallefoglia sfida in programma sabato 29 maggio alle ore 17. Ed era questa l'ultima notizia di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io vi ricordo inoltre che ora il Vallefoglia Magazine si prende una piccolissima pausa estiva ma che tutte le notizie riguardanti comunque la città di Vallefoglia e tutta l'intera vallata verranno poi proposte all'interno del nostro notiziario giornaliero ovvero Rossini News in onda da lunedì al venerdì sempre alle 19.40. Vi ringrazio per essere stati con noi in questa stagione, vi rinnovo l'appuntamento ai prossimi mesi e vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.